ti ricordo di usare alezzi come supporta un creatore nello shop di fortnite grazie per il supporto e buona visione benvenuti in questo mio nuovo video nuova sfida visita diversi avamposti del comando di neve il primo si trova esattamente qua guardate perfetto qua ci sono anche ieri poi guardiamo subito un'altra posizione perfetto scendiamo ok e questa è la seconda posizione si trova esattamente qua poi c'è anche la sfida di cercare le casse qui dentro potete trovare delle casse e completate la sfida un altro posto invece si trova vicino a parco pacifico se non li trovate questi posti mi raccomando riavviate il gioco ok perfetto ci siamo eccolo qua un altro avamposto ok intanto stiamo facendo delle sfide e siamo 3 su 5 vi consiglio anche di cambiare l'aereo ok perfetto c'è un altro anche avamposto esattamente qua ok eccoci qua perfetto questo è un altro posto ci manca l'ultimo avamposto poi esattamente qui c'è un altro avamposto e completiamo la sfida ok perfetto basta atterrare ok comunque questo video finisce qua spero che sia piaciuto mi raccomando iscriviti al canale per stare sempre aggiornato sulle ultime notizie di foro tenete lascia anche un bel piace per supportarmi commenta e condividi noi ci vediamo in un prossimo video non ci vediamo in un prossimo video non ci vediamo in un prossimo video non ci vediamo in un prossimo video